Non guardate un anime chiamato Boku no Pico. Gente, sta merda è così malata in così tanti fottutissimi livelli? Stavo al telefono con un amico e lui mi manda tre video chiamati solo Boku. Ho chiesto, yo, cos'è sta merda? E lui mi dice ridendo, tu guardatelo e fai modo di non avere nessuno attorno mentre lo fai. Sinceramente pensavo fosse qualche porno di Naruto o roba del genere, Ma poi ho iniziato a guardare il primo video e ho detto, yo, what the fuck? Poi ho continuato a guardare ed era tipo, yo, e poi vanno nella cazzo di macchina e iniziano a, yo, non riuscivo a credere cosa cazzo aveva appena visto. E come se Satana mi avesse dato la sua collezione di porno. Merda raga, è stato così disturbante che, che non riuscivo a smettere di guardarlo. Arriva il secondo video e ce n'erano due di loro, due. E quella ragazza li guarda e poi si, yo, e quel tipo prende quel giocattolo a forma di cane e poi, yo, Oddio era così brutto e schifoso, ma dovevo continuare a guardarlo. E l'ho fatto, ho continuato con il terzo video, tre tipi, tre, tre tipi. E Coco, Coco era il suo nome raga, oh mio Dio non andrò più in paradiso gente, ho già venduto la mia anima al demonio. Ma arrivo alla fine, arrivo alla fine gente, non guardate un anime chiamato Boku no Pico. Non fatelo, mi hanno appena violentato gli occhi, ascoltatemi e non fatelo.